A causa del mare agitato, da domenica sono quasi azzerati gli sbarchi. Nella struttura dell'isola i migranti presenti sono scesi sotto quota 600. Per oggi non sono previsti trasferimenti. Ieri mattina 250 persone sono state imbarcate su un traghetto di linea portate a Porto Empedocle. Il perfetto di aggrigento ha detto siamo attrezzati per alleggerire la situazione a Lampedusa. Nella giornata di ieri 25 migranti, 3 donne e 10 minori sono sbarcati a Lampedusa dopo che il barchino di 6 metri salpato dalla Libia su cui viaggiavano è stato soccorso dalla motovedetta della Guardia di Finanza. A bordo siriani sudanesi e somali. Altri 11 uomini sono stati avvistati e raggiunti dalla capitaneria su un barchino nelle coste di fronte a Calappiombo, sempre a Sant'Antiaco. I 24 migranti sono stati tutti sottoposti alle procedure di identificazione. La life support di Emergency sbarcherà oggi a Dortona anche i 40 naufraghi soccorsi sabato nel Mediterraneo. L'arrivo nel porto è previsto alle 14.